Siamo a Los Cristianos sulla via principale che è Calle de Svezia dove sono piazzate le luminarie natalizie. Ora faremo un video. Ecco, Calle de Svezia si trova un po' in alto e per raggiungere il lungomare bisogna fare delle scalinate. Ecco, vediamo le scalinate di cui parlavo. Ecco, qui siamo dietro la chiesa dove poi c'è un'altra stradina dove ci sono molti ristoranti che scende verso il mare e verso la piazza che si trova proprio sul mare. Ecco, in questa via pure ci sono numerosi ristoranti. Siamo di fronte alla chiesa. Ecco, questa è la via che poi porta all'altra piazza principale che si trova proprio sul lungomare. e si sosseguono sia a destra che a sinistra i numerosi locali. Ecco, qui siamo di fronte al... Ecco, qui siamo di fronte al... Ecco, qui siamo di fronte al... Le cottage che è un buon locale. Ma siamo quasi arrivati alla piazzetta sul lungomare. Eccola qua. Questa è la piazzetta dove abbiamo anche il Burger King. Vedremo, asciuje, lanza via. Però da una delle tue, affinando la piazzetta nelle sangueiger, La piazzetta nel stylist... Giaccia whatevere... Ab Amendment Grazie a tutti.